come va e bentornati sul mio canale come sempre prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di youtube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità questo è un video che veramente secondo me ci risolverà tantissimi tantissimi problemi perché intanto perché me lo state chiedendo da mesi e mesi questa questa cosa qua che non so adesso se l'avete vista dalla copertina o dal titolo adesso sapete che io prima faccio il video e poi faccio la copertina prendo ispirazione dal video e poi perché finalmente è arrivata a una delucidazione qualcuno si è degnato di dare una delucidazione su questo problema delle percentuali poi non vi preoccupate perché io qui sotto nella infobox vi lascio anche il collegamento diretto alla notizia e questa notizia qua arriva direttamente dal ministero del lavoro e delle politiche sociali quindi non è che me la sono inventata io non è che l'ho trovata in giro così su dei siti internet che boh non si sa chi siano ma questo è un documento ufficiale quindi è proprio carta canta come si suol dire e il ministero del lavoro e delle politiche sociali cosa ha fatto ha inviato questa no credo sia una nota non c'è mi pare che sia una nota che arriva da un registro ufficiale del 29 di settembre di quest'anno 29 di settembre ed ecco questo messaggio questo questo modulo line l'anno inviace il ministero l'ha inviato a tutti gli servizi sociali dei comuni all'anci all'ampal all'inps insomma hanno fatto una comunicazione generale per tutti quanti come dire guardate che funziona così e allora partiamo subito partiamo subito a capire che cosa che cosa ci hanno detto finalmente è arrivata una risoluzione l'oggetto della lettera dice così trattamento nuclei beneficiari rdc con componenti udite bene con componenti con grado di invalidità 45 65 per cento inviati ai centri per l'impiego sospesi per decorrenza sette mesi ha voglia a cercare informazioni e a dire la percentuale questa la percentuale quell'altra la percentuale di sulla percentuale di giù a voglia a cercarla ci voleva qualcuno che finalmente dicesse qualcosa ma voglio dire sono passati sette mesi da quando avevano detto che rdc sarebbe cambiato che sarebbero rimaste sette mensilità e con calma con calma dopo sette mesi finalmente è arrivato un messaggio e allora questa lettera comunicazione nota non so chiamatela come volete ci dice così con riferimento all'oggetto quindi componenti con grado di invalidità 45 si informa che in via interpretativa quindi che praticamente fa fanno un'interpretazione condivisa dall'ufficio legislativo aspettate che ingrandisco perché se no non ci vedo fin laggiù sentita la direzione generale per le politiche attive e lampal si ritiene udite ascoltate bene si ritiene sussista in favore dei nuclei con grado di invalidità compreso tra il 45 e il 65 per cento il diritto alla valutazione da parte dei servizi sociali e ai fini della eventuale prosecuzione della fruizione del reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023 indipendentemente dall'attivazione di misure di politica attiva ciò posto si segnala agli operatori dei servizi sociali attenzione questo lo stanno dicendo dei servizi sociali la presenza sulla piattaforma cepi dei nuclei beneficiari rdc con stato beneficio sospeso al cui interno sono presenti componenti con grado di invalidità compresa tra il 45 e il 66 per cento poi va avanti e continua dicendo anche questo molto questo pezzo è molto molto importante al riguardo si specifica che anche anche tali nuclei sono inseriti all'interno della piattaforma gp con carattere prioritario e i servizi sociali entro sottolineato entrano oltre il 31 ottobre 2023 dovranno finalizzare l'analisi preliminare con esito diverso da a affinché la comunicazione di avvenuta presa in carico possa essere trasmessa all'ins tramite la piattaforma gp poi c'è la firma firmato da onelli paolo ministero del lavoro delle politiche sociali siglato da cristina berliri berliri tra l'altro non so se potrebbe 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 interessarvi al fondo c'è anche e l'indirizzo del da dove è partita questa lettera o un numero di telefono e tre bellissime email di cui una è una pecca e una è un email normale e poi c'è anche il sito internet quindi quindi se fosse utile la sotto ci sono anche dei riferimenti un numero di telefono quindi questa nota lettera comunicazione secondo me a questo punto perché è partita dal ministero del lavoro delle politiche sociali ed è arrivata a tutti i servizi sociali dei comuni è molto importante perché è un bel momento ci dice finalmente specifica anche lo ribadisce per tre volte la percentuale di appunto di invalidità che i centri per l'impiego devono praticamente tenere conto i comuni cioè finalmente si è capito 45 dal 45 al 66 per cento poi adesso che abbiamo capito tutto quanto ecco finalmente ci è voluto solo come ho detto solo sette mesi con tutta la calma del mondo vi ricordo che ho aperto una chat dedicata solo a voi che siete iscritti del mio canale di youtube e questa chat la trovate su telegram quindi andate su telegram aprite l'applicazione in alto c'è la lente di ingrandimento scrivete luigi youtube tutto attaccato entrate nella chat e vabbè basta rispondere c'è una domanda bisogna rispondere ok premere ok e dopo che siete entrati nella gente nella chat potete fare domande e ricevere risposte solo una cosa vi chiedo entrando in quella chat va bene potete fare domande però se c'è qualcuno che ha un problema e ha fatto una domanda e voi conoscete la risposta potete tranquillamente rispondere alla domanda di quella persona quindi diciamo che una chat che funziona sia con dare che un ricevere funziona da da tutti e due i lati ecco potete fare una domanda e ricevere anche una risposta però se avete se qualcuno fa una domanda voi potete rispondere quindi io la trovo una cosa molto molto utile con questo è tutto io vi ringrazio per avermi guardato vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di youtube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità e noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento sempre qui sul mio canale di youtube a presto ciao